Coraggio! Popolo di Padova! Il tempo della vostra ingiustizia sta affanendo! Fermo! Francesco ha detto... Vi voglio a tutti un paradiso! Antonio, è Padova! Sei un eretico! Ha avvicinato prostitute! Non abbiate paura! Tutto! Non finirà qui! Chiunque di voi abbia anche una sola! Dove credi di andare? Piccola piaga! Io vi garantisco che quella piaga ora è mia! E io la sanerò... Nel nome di Dio! No! 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 videos! No! 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 Non arque四! No! No! Grazie a tutti